amici di talk sicilia bentrovati inizia la prima delle tre puntate che dedicheremo alla università di palermo una grande fucina per il futuro dei manager e dei professionisti della nostra società che soprattutto negli ultimi anni ha avuto diversi passaggi sia legislativi che normativi e che tuttora ancora abbiamo in cantiere soprattutto a roma determinate norme per cercare di collegare lo studente universitario col mondo del lavoro io giornalisticamente ho deciso di queste tre puntate che ascolteremo sia il rettore midiri che l'avremo la prossima puntata sia il pro rettore una nuova figura istituzionale della vita studentesca il professore cappello invece oggi iniziamo con il presidente dell'ersu l'ersu è un ente regionale il presidente è stato nominato un paio di mesi fa a inizio d'anno e la parola che salta subito all'occhio di questo ente che è il vecchio la vecchia opera universitaria una ventina di anni fa con una legge regionale perché presidente è una nomina governativa la parola che salta subito all'occhio è il diritto allo studio universitario una parola che può sembrare un po consentitemi il tema esoterica ma ha tutto dietro una macchina e un'organizzazione affinché questo diritto venga applicato ne parliamo con il presidente ripeto dell'ersu il dottore michele d'amico a cui ringraziamo innanzitutto per l'ambito grazie a voi ben trovato e grazie per aver raccolto l'invito di talk sicilia presidente d'amico questo diritto allo studio universitario ma è un diritto per tutti o per pochi mi consenta la domanda e allora il diritto allo studio universitario anzitutto come lei giustamente ha detto all'inizio cos'è l'ersu l'ersu è un ente della regione siciliana che proprio si occupa del diritto allo studio universitario il diritto allo studio universitario ha diciamo l'attività dell'ersu si muove all'interno di un quadro sia costituzionale che normativo costituzionale l'articolo 34 della costituzione laddove appunto enuncia che i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi e per quanto riguarda i mezzi ovviamente si riferisce ai mezzi finanziari hanno tutto il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi questo come si concretizza questo diritto allo studio questo diritto allo studio si concretizza con le borse di studio e come vengono assegnate le borse di studio le borse di studio vengono assegnate per concorso quali sono i criteri così diciamo la diciamo la fermo affettosamente sono d'accordo e partiamo appunto cerchiamo perché molti telespettatori giustamente entrano nel meccanismo come dicevamo che molti non sanno cosa sia l'erso in buona sostanza allora dipiloghiando con un passo indietro l'erso diciamo se sbaglio mi corregga come parlavamo prima di andare in onda si può sintetizzare in tre pilastri di attività appunto la borsa di studio e gli alloggi per i cosiddetti fuorisede servizio di ristorazione e di servizi culturali eccetera collaterali su questi fronti noi abbiamo titolato in questo talk diritto allo studio universitario tra promesse di servizi perché tra promesse di servizi perché lei giustamente si è insediato a gennaio e ha già come si suol dire gettato le basi sul suo lavoro quindi tutto sommato è una promessa che ora analizzeremo quali sono i suoi obiettivi di servizi perché è chiaro che abbiamo registrato e registriamo da tempo e soprattutto nell'ultimo periodo parliamo attenzione ancor prima del suo insediamento perché lei a gennaio qualsiasi di servizio è difficile che l'abbia causato lei questo va da sé quindi di servizi perché cercheremo con le sue promesse di andarli a risolvere ovviamente partendo proprio dalle borse di studio che lei se non ricordo male ha detto ad aprile noi pagheremo tutte le borse di studio nel suo insediamento e se devo essere sincero realmente io ho visto che ancora prima della fine di aprile lei giustamente ha ringraziato anche il governo schifani per i fondi e allora mi chiedo perché avete pagato puntuali le borse di studio quando negli anni veniva difficile cioè lo studente il genitore dello studente che avrà anche soffetto nel pagamento penso in ritardo della borsa di studio qual è stata diciamo l'alchimia che vi ha consentito di arrivare a questo obiettivo che è un obiettivo importante attenzione che è inutile spiegare cosa sia una borsa di studio ma è ossigeno vitale insomma per lei come la possiamo sintetizzare presidente questo vostro obiettivo primo obiettivo raggiunto sotto certi aspetti ma perché abbiamo lavorato costantemente in sinergia anche con gli uffici dell'assessorato all'istruzione e alla formazione quindi noi abbiamo lavorato veramente tantissimo siamo riusciti nell'obiettivo che c'eravamo fissati di pagare e quando io quando noi diciamo abbiamo pagato il 100% del posto di studio significa in termini assoluti 11.136 posti di studio che è veramente un bel numero abbiamo avuto anche all'interno dei nostri uffici la capacità di poter arrivare al 30 di aprile e quindi far sì che la macchina amministrativa potesse funzionare ancora prima che arrivassero questi fondi i fondi sono arrivati e noi abbiamo pagato il 100% degli aventi diritto quindi tutto sommato è stata vero una promessa una promessa comunque mantenuta e su questo io ho avuto modo anche di ringraziare l'operato sia dell'assessore e del governo e del governatore e anche ovviamente gli uffici che hanno lavorato alla cremente pur di raggiungere questo importantissimo obiettivo perché come dicevo poco anzi quando io facevo riferimento all'articolo 34 e quindi noi ci riferiamo a una comunità studentesca così vasta che senza questo non potrebbe raggiungere i gradi più alti degli studi e attenzione diritto allo studio significa libertà certo si traduce in libertà si traduce in libertà nel cercare di come dire di costruire un avvenire di costruire un futuro significa far sì che si maturino determinati diritti civili il potere pensare di avere un futuro e senza questi soldi perché vero è che c'è l'articolo 34 della costituzione ma c'è anche l'articolo 3 la parte dove recita che l'autorità pubblica ecco non lo dico a memoria ma lo diciamo in maniera nella sostanza che l'autorità pubblica deve rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale ed economico al fine del pieno realizzarsi della persona umana e quindi questo è stato anche fatto e dobbiamo dire stiamo facendo un buon lavoro stiamo facendo un buon lavoro primo obiettivo raggiunto borsa di studio per il 2023 ci siamo altro punto del pilastro che dicevamo è la ristorazione la ristorazione ovviamente a me abbiamo letto tutti che ha attivato un servizio whatsapp i commenti i problemi non mancano però voglio dire sia nei termini igienici come molto spesso viene denunciato sia nei termini qualitativi e cosa possiamo dire alla popolazione studentesca di concreto magari ci poniamo se d'accordo un obiettivo al di là di quello che ha già fatto in questi pochi mesi ci poniamo un obiettivo concreto che so magari per i prossimi sei mesi entro la fine dell'anno e magari poi ci ritorniamo per cercare un po di lavorare come lei ha ben dimostrato con una sorta di programmazione perché se avete raggiunto se ho ben capito il pagamento di tutte le borse di studio perché avete programmato ancora prima che arrivassero i soldi quindi come si dice avete creato l'autostrada per poi far viaggiare la macchina su questo fronte della ristorazione cosa possiamo dire sul fronte della ristorazione allora io mi sono ovviamente ritrovato all'interno anche di questo meccanismo una quando noi parliamo di ristorazione è opportuno chiarire un aspetto che è estremamente importante la mensa di palermo diciamo come dire va viene diciamo elargisce da come servizio circa 400.000 pasti l'anno quindi è chiaro che qualche disservizio si può anche trovare c'è da dire un'altra cosa mi si permetta di dire questo quando io mi sono insediato io ho visto che la distribuzione dei pasti non avveniva in tutti i luoghi laddove ci sono le residenze universitarie è la una delle prime cose che io ho fatto nel senso che in alcune mezze non arrivava allora il servizio di mensa si spieghiamo in maniera sintesi in due momenti c'è un momento dove c'è il santiromano che c'è la mensellini e quindi gli studenti è il luogo molto più frequentato ci mangiavo negli anni 80 io ho fatto economia e commercio quindi pure io pure io e quindi è il luogo diciamo per eccellenza ecco dove si produce veramente tanto tanti 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 posti e poi c'era ci sono invece l'altro l'altro aspetto è quello legato al cosiddetto food cioè noi io mi sono accorto che c'erano delle residenze universitarie laddove c'è la possibilità per gli studenti di avere la mensa gratuita e non veniva portata il pasto e noi ma guardi io devo dire che anziché capire perché a me piace agire l'ho capito però qualcuno non glielo portava evidentemente se lo scordava non lo so chissà chissà cosa 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 è accaduto questo non me lo so non è inutile diciamo secondo me un disservizio tolto lo possiamo dire a questo punto ti abbiamo tolto ma tra l'altro abbiamo arricchito la platea adesso il conservatorio di palermo portiamo i pasti l'accademia delle belle arti portiamo i pasti perché ricordiamo l'ersu non è solo università bravo bravo diciamo che io mi sono accorto che c'era l'onfalos dell'ersu era l'università l'unipa invece no perché l'ersu che ha una competenza sulla sicilia occidentale e quindi riguarda le province di caltanissetta grigento trapani non solo c'è l'unipa o con le sue dislocazioni sul territorio ma ci sono anche accademi delle arti ci sono ci sono i conservatori di musica e quindi la mia la mia idea era quella di offrire quanto più servizi possibili all'intera platea che noi diciamo gestiamo dal punto di vista dell'euro e quindi cosa possiamo dire allo studente noi entrofiliando cosa possiamo dire come impegno allora come impegno noi allora ci siamo accorti che ci sono evidentemente quando si producono 400 mila pasti è chiaro che qualcosa esce sempre fuori e allora noi cosa ci siamo inventati è qualcosa di qualche giorno fa ma innanzitutto faremo una manifestazione di interesse che dovrebbe uscire a giorni per l'esperto per reclutare l'esperto controllo di qualità cioè l'ersu ad esempio non aveva la famosa hcc non aveva non aveva non aveva un proprio esperto con quale colloquiare per i disservizi che avevano e quindi anche una forma di tutela parte dell'ersu stesso mi si permette anche da parte del presidente ovviamente che ne ha responsabilità che ha una determinata responsabilità quindi una gestione di interesse noi abbiamo detto agli studenti io quando guardi quando mi sono insediato io ho detto subito gli studenti la mia porta è aperta sempre io sono all'ersu 12 ore al giorno forse anche di più e ho detto loro quando c'è qualcosa che non va parliamone senza neanche appuntamento voi potete venire all'ersu la mia porta è sempre aperta allora allo stesso modo di come c'è questa ampia visione e questa ampia disponibilità nel ricevere la comunità studentesca nella 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 sua globalità e che sia il rappresentante che sia lo studente e allo stesso modo io mi aspetto che anche dall'altra parte ci sia quella di disponibilità anche al dialogo e cosa abbiamo detto riscontrate qualcosa fatecelo sapere subito immediatamente venite all'ersu noi siamo lì no ma lo riscontriamo e quindi cosa abbiamo detto riscontriamo lo subito facciamo l'amministrazione di interesse per rispetto sul controllo della qualità mettiamo a disposizione un numero di telefono dove garantiamo l'anonimato e dove tutti possono far veicolare quello che sono i disservizi perché noi siamo pronti a risolvi no le devo dire questo le dà onore ma al di là che è una macchina pericolosa il whatsapp non è che lo so spiegare io però e gli dà onore perché lei non c'è dubbio che poi non può non fare tenere conto di quello che si scrive quindi io faccio questo è pericoloso nel senso che giustamente i problemi è una testimonianza concreta perché vuole risolvere i problemi guardi io vado oltre durante il primo incontro quando sono stato invitato dal prorettore alla vita studentesca il professore cappello io la prima cosa che inviteremo la prossima la prima cosa che feci io diedi il mio numero di cellulare a tutti io sono qua io sono qui questo è il mio numero sono stato contattato per un housing universitario estivo di domenica ho risposto di domenica quindi questo diciamo responsabile è un passo molto importante sotto certi aspetti perché da un lato se ho ben capito dovrebbe maggiormente garantire la situazione igienico sanitaria non perché attenzione oggi non ci sia ma c'è un responsabile che quotidianamente si occupa ovviamente qualsiasi di servizio in brevissimo ma guardi guardi abbiamo pensato anche di fare un'altra cosa non solo una manifestazione di interesse sul sull'esperto del controllo di qualità del servizio di ristorazione noi ci siamo accorti che ad esempio in mensa non ci sono sempre diciamo come dire il frutto di stagione la l'alimentazione di stagione un atto tema complesso io e io stiamo cercando lo stiamo valutando questo di anche grazie anche a una collaborazione che si è staurata con l'università di potere agire anche su questo versante no io questo qua sono d'accordo e brevemente perché io sono siciliano un accordo anche con l'assessore agricoltura non potrebbe essere male con le aziende del i prodotti bio siciliani perché apre chiudo la parentesi forse molti non lo sanno ma la sicilia è la prima regione in italia di prodotti bio per la cronaca e purtroppo il tempo stringe e devo passare al terzo punto che sono gli alloggi presidente sì allora l'alloggio è determinante inutile dirlo sia nel comfort per lo studente fuori sede eccetera sono pochi e alcuni faticenti cosa abbiamo in cantiere guardi non sono pochi diciamo subito che sono almeno il bando gli studenti lamentano attenzione allora io non li ho contati adesso adesso ci arriviamo il bando dello scorso anno prevedeva 800 posti letto sì noi grazie ai fondi del pnr l'abbiamo aumentato di altro un 20 per cento di circa 100 esattamente 144 quindi quasi 900 abbiamo preso due grazie ripeto ai fondi del pnr anche qui bisogna ringraziare la macchina che si è mossa che si è mossa anche perché lì i tempi sono veramente risicati nel momento in cui esce il bando di per come devi agire e sono stati aumentati di 144 posti adesso siamo in attesa abbiamo preso altre due 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 residenze universitarie uno è santissimo salvatore in vialtarello e l'altro il san nicolò all'albergheria che sono due belle strutture ci sono delle carenze al santi romano sì ma qui cercheremo in tutti i modi con i fondi che provengono dalla l'ultima finanziaria regionale e ci sono circa 20 milioni di euro di fondi noi abbiamo già quasi un progetto fatto per il la ristrutturazione del santi romano quindi diciamo che in cantiere più che nuovi posti perché sono arrivati noi facciamo questo bravissimo c'è la ristrutturazione del santi romano per migliorare il servizio di qualità dal punto di vista del servizio abitativo ma inoltre noi siamo in attesa del bando che uscirà fuori dal decreto ministeriale 1437 del 27 dicembre 2022 che sono altri fondi PNRR che possono essere spesi che possono essere spesi fino al 31 di maggio abbiamo dei tempi fino al 31 maggio 2026 31 maggio 2026 siamo in attesa dei bandi perché vorremmo partecipare anche su questi bandi nel cercare poi faremo ovviamente una gestione di interesse poi non dipenderà da noi poi dipenderà ovviamente dal mercato se questi se questi immobili con destinazione d'uso per residenze universitarie anche albergo possono essere ovviamente come dire utilizzati per per fare ciò ma vado oltre ci siamo mossi ci siamo mossi e abbiamo fatto una manifestazione di interesse l'abbiamo fatta noi visto che c'è stato la norma di riordino del PNRR che prevede i beni confiscati alla mafia per essere assegnata a residenze universitarie l'abbiamo fatto per l'oxiare di trapani e l'abbiamo fatto per l'hotel san paolo quindi acquisite nuove strutture esatto noi vorremmo acquisire nuove strutture ovviamente non dipenderà da noi dipenderà da chi vorrà assegnare queste questi immobili all'erso di palermo beh penso che noi in questi 20 minuti abbiamo dato una piccola apertura ovviamente perché ritorneremo nel tema che è molto più complesso come voi potete intuire del diritto allo studio universitario e ringrazio il presidente d'amico per grazie a voi e avremo modo di rivederci dato che lei va spedito porterà altri obiettivi ovviamente concreti e noi ci rivediamo alla prossima puntata con il TORC Sicilia